Per una volta le principali società sportive di Ravenna metteranno da parte i campi da calcio, i parchi di basket e volley per sedersi sulle poltroncine del teatro a Lighieri. Sabato 14, lunedì 16 alle 21 e domenica 15 dicembre alle 15.30 il Ravenna Football Club, la Porto Robur Costa e la Piero Manetti uniranno le forze per assistere allo spettacolo teatrale il rigore che non c'era dell'attesissimo Federico Buffa. Questo progetto nasce dalla possibilità di avere all'interno della stagione dei teatri che attraversa i due teatri della città, il teatro a Lighieri e il teatro a Rasi, di avere all'interno della stagione Federico Buffa con questo suo nuovo lavoro il rigore che non c'era. E quindi da qui noi abbiamo deciso di mettere insieme, di lavorare insieme sia per la promozione di questo spettacolo sia perché da anni Ravenna Teatro lavora per far dialogare mondi diversi all'interno della città. In questo caso abbiamo già fatto altre esperienze sia con il ciclismo che con il calcio di far dialogare le società sportive del calcio, del volley, del basket e della pallavoro insieme al teatro.